Il centro di formazione professionale e inserimento lavorativo è una struttura dell'agenzia formativa della provincia di Varese e si occupa di formazione e inserimento lavorativo di ragazzi che presentano una disabilità nell'apprendimento. La visita di oggi dei calciatori del Varese è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi del CFPL. Hanno visitato i laboratori di tessitura, di mosaico e falegnameria e si sono fermati nel laboratorio di cuoio per fare un oggetto e condividere con i ragazzi la loro attività. Ci sono pochi attrezzi? Ti mancano di no? Gli occhiali ce li hai? Cosa ti manca a te? La squadra? Ok, va bene la curva. Il centro di formazione professionale accanto ai laboratori che sono in questa sede di via Montegeneroso ha diverse attività all'esterno, nelle isole formative, all'interno di aziende del territorio che collaborano con noi in questi percorsi di formazione e di accompagnamento al lavoro dei nostri ragazzi. L'obiettivo finale è quello dell'inserimento lavorativo e quindi i ragazzi di cui ci occupiamo in pratica sono dai 14 ai 25-30 anni in percorsi che sono personalizzati e vanno a rispondere alle caratteristiche dei ragazzi. La giornata di oggi per noi è una festa e è una festa anche perché il CFP da anni promuove attività anche di avviamento allo sport sia nel settore del calcio, del basket e del nuoto. E nel calcio da diversi anni abbiamo la collaborazione degli allenatori della Primavera e del Varese e questo è sicuramente un grosso stimolo per i nostri ragazzi a praticare l'attività e a divertirsi anche in maniera con un'attenzione anche da un punto di vista della qualità dell'insegnamento.